Una volta c'erano pochi complimenti, poca marmellata in giro, quando non andavi, però non è mica il tuo lavoro, e ti mandavano a casa. Ho fatto la quinta normale, poi ho fatto fabbrica 54 ore a settimana, più scuola di disegno Tommaso Minardi, sia d'estate la mattina, sia d'inverno la sera. Perciò voi capite quanto eravamo noi impegnati ragazzi di 10-11 anni. La nostra fortuna è stata di avere degli insegnanti come Morigi Giulio, Francesco Nonni e Roberto Sella, sono dei fari dell'insegnamento del grande artigianato faentino, questo lo metto per iscritto, lì si studiava, non si facevano chiacchiere, quando un ragazzo era un po' svogliato diceva non hai voglia, vai a casa, ti smamavano, ti mandavano a casa. Comunque il lavoro era serio e duro. Allora stando in mezzo a questa gente, come diceva mio papà, che questo può essere un insegnamento anche per i giovani, diceva, prima in dialetto e poi dopo traduco, diceva furbo e ladro e la roba post, furbo e ladro e la roba post, furbo e ladro con gli occhi, perché nel nostro lavoro, nell'artigianato si coglie, si capta molto quello che è più capace di te per apprendere. Nel 1938 sono andato nella Manifattura Farina fino a che è venuto, che bombardavano, anzi fu anche bombardata la fabbrica e dopo siamo stati un anno e mezzo, due anni, 44-45 erano bombe sulla testa. Quello è stato l'inizio, il mio apprendistato. Andando a San Cristoforo si attraversa il passaggio a livello che passa il treno che va a Firenze, lì subito a sinistra c'è un equitrino, cioè la sponda viene giù, nel mese di giugno, luglio, si secca, però è stata bagnata, andavamo con un paletto a prendere la terra, poi veniva messa in vasche che decantavano, poi venivano filtrate da delle balle finché la terra arrivava a un punto di lavorazione. Noi avevamo una lastra di vetro con un altro di vetro sopra, io duravo dei giorni a fare il blu, poi era una roba dell'altro mondo, veniva Pretolane e ci soffiava sopra, tra l'altro aveva anche un alito non gradevole per vedere se il colore aveva dei grani, dei granelli ancora, allora dai dai Mesna devi arrivare a farlo avere il puzzo della cipolla, mi ricordo ancora da bambino questo discorso, forse di macinare, 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 una roba da schiavetti, ecco, roba che adesso non usa più, credi stato per una gran miseria, gran miseria, ti davano se ti davano un pennello, però la soddisfazione, sempre col fatto che io mi prendo una fortuna quando ti piace un lavoro, quando Pretolani mi fece, avevo 15 anni, il primo draghettino Raffaele Scato, cioè quelle che le chiamano le grottesche, e venne a farmi un campioncino, e mi disse, promo, cominci un po', allora ti vai su di giri, se ti piace un lavoro, tutto l'è, poi dopo piano piano è un avanzamento che viene su, finita la guerra ho cominciato a fare anche qualche cosa che mi dava anche quattro soldi, e ho cominciato a galeggiare, ho cominciato a decorare anche sul biscotto, sull'ingobbio, su maioliche povere, su maioliche valide, fino a che sono arrivato alla ritrattistica. Mi ricordo che una lesse e raccontava puntate alle altre colleghe di lavoro, Teresa Racquet di Emile Zola, radurè due in trienne, perché tutti i giorni, e loro come hanno di finire, loro come è andato a finire tutti questi piatti e mi dico, vabbè, tutta roba da ridere. Nella fabbrica, io ero anche vicepresidente, quando il presidente andava in ferie doveva andare in ufficio, fare delle firme, telefonare, avere dei contatti, non mi piaceva per niente, però era una mansione che bisognava farla, in fabbrica. E allora cosa succede? Che noi avevamo due o tre esami all'anno che ti foravano le dita, l'orecchio, ti facevano fare la pipì, tutto un continuo esame. E loro fanno un congresso, palazzo dei congresi a Firenze, che non è lontano dalla stazione, e loro dicono, vado a te, c'era da andare tre mattine a questi convegni. La terza mattina dico, vengo qua, faccio l'oc, e loro asso la mano, dirò due bagianate. Allora, quando chiese a loro, ma scusate, venite a vedere se abbiamo delle malattie, e io avevo delle ragazze che dovevo cambiarli posto, perché avevano del sangue, un tasso di piombo già preoccupante, perché respirare la polvere delle maioliche, dei colori, viene a essere intossicato. E allora dovevo metterli a dare la carta a vetri, a cambiarle a posto. Allora, insomma, faccio questa uscita, e dico, ma scusate, ma invece di toglierci sangue, perché non ci dite quello che mettete nei prodotti che ci fornite? No. Allora, fu bloccato, e mi dice l'ingegnere, tutti ingegneri, di alto scanno, capito? E mi diceva, Savini, io, la sua domanda è pertinente, però come faccio io a dirgli i segreti industriali? Allora, lo saluto l'ingegnere, mi alzano le braccia, ma io, oh, un applauso, perché vado la a far che? Farloche. E non mi dici se mi immagino, abbiamo dei colori che c'è l'arsenico, oh, da Robic al Yamasa, non ti dicono niente perché è un segreto industriale. Questo è il fatto che io tagliai la corda e li salutai. C'era poca prevenzione per la salute di chi lavorava. C'era Fantoni che aveva... arrivato 80 anni, quando aveva un vaso, lo chiamano in dialetto, lo chiamano Spnach, che è un batufolo di penne morbide, di galline, che te quando fai andare il tornello glielo passi sopra e fai una nube di fumo, che è deleterio, è vicidiale, si respirava tutto lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.